Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk è considerato uno dei più rilevanti innovatori del pensiero filosofico contemporaneo. La sua fama nei circoli culturali e filosofici tedeschi è uguagliata probabilmente solo da quella di Gadamer, Habermas e Odomarcard. Si tratta però di una figura controversa e considerata per molti versi lontana dal rigore proprio della filosofia accademica, anche per via della propensione per tematiche usualmente non affrontate in ambito accademico. Sloterdijk nasce il 26 giugno del 47 a Karlsruhe. Dal 68 al 74 studia filosofia germanistica e storia a Monaco e a D'Amburgo. Si laurea nel 75 a D'Amburgo con una tesi centrata sulla filosofia e sulla storia della letteratura autobiografica moderna. Dall'80 scrive molteplici pubblicazioni e si occupa di teoria del tempo, di filosofia della cultura e della religione, di teoria dell'arte e di psicologia. Nel 92 diviene professore di filosofia e teoria dei media presso la scuola superiore della forma di Karlsruhe. Dal 93 dirige l'istituto di filosofia della cultura presso l'accademia dell'arte figurativa di Vienne. Dal 2001 è rettore dell'accademia dell'arte e del design di Offenbach. Dal gennaio del 2002 dirige la trasmissione radiofonica Il Quartetto Filosofico. Nel 93 e nel 2000 riceve il premio Hans Robert Curzius per la saggistica. Nel 2001 Sloterdijk riceve il premio Christian Kellerer per l'impegno e il lavoro filosofico. È stato professore ospite presso il Bard College di New York, il Collège Internationale des Filosophies di Parigi e presso la scuola superiore della tecnica a Zurigo. L'opera più nota di Sloterdijk è indubbiamente la Critica della ragioncinica dell'83, un'opera che ha avuto un successo straordinario di pubblico e di critica. Le opere di Sloterdijk si contraddistinguono per lo stile narrativo originale e per i contenuti innovativi, temi e contenuti che hanno condotto molti critici a paragonarlo a pensatori con Schopenhauer e Spengler. Possiamo dire che l'opera di Sloterdijk in generale prende le distanze dalle questioni importanti della metafisica, della logica e dell'epistemologia. Dal punto di vista di Sloterdijk i grandi temi come Dio, l'universo, la teoria, la prassi, il soggetto, l'oggetto, il corpo e lo spirito si sono rivelati storicamente mezze verità, semplici nomi pressoché vuoti di contenuto. L'obiettivo che la filosofia di Sloterdijk si pone è invece quello di occuparsi di tutti gli aspetti della vita apparentemente bassi, prosaici e senza significato. A giudizio di Sloterdijk il tempo e la storia hanno lasciato sull'umanità una traccia, quella del cinismo. E proprio il cinismo è al centro della riflessione filosofica dell'opera principale di Sloterdijk, la critica della ragioncinica. In questo testo Sloterdijk adombra come la perdita di fiducia nei confronti dei valori assoluti, che si è manifestata ad esempio con il nichilismo, abbia effettivamente avuto origine con l'illuminismo. L'illuminismo è in qualche modo foriero di un atteggiamento accentuatamente cinico. Nella seconda parte del testo, critica della ragioncinica, che è poi molto più estesa rispetto alla prima parte, vengono presi in esame atteggiamenti cinici che si sono manifestati nei processi culturali. E tali esempi sono esaminati sul fondamento di quattro diversi criteri, fisionomia, fenomenologia, logica ed esempi storici. Tale analisi ci fornisce un quadro integrale delle varianti e della complessità del cinismo. Rilevante è comunque l'analisi di due concetti che, pur apparentemente simili, sono contrapposti. Il cinismo, ritenuto da Sloterdijk prevalente nella realtà contemporanea, e il chinicismo, che l'autore difende come alternativa al primo, cioè al cinismo stricto senso. A giudizio di Sloterdijk l'illuminismo ha portato con sé la distruzione di ogni ideale, di ogni valore assoluto e di ogni verità. Più la mentalità illuministica si affermava nella cultura, più si affermava analogamente quella maniera di pensare nichilistica che gradualmente ha determinato la messa in discussione di tutti gli ideali e di tutti i valori. L'illuminismo, per Sloterdijk, è una scienza malinconica che, anche se non intenzionalmente, porta l'umanità a una condizione di rilassatezza, debolezza e stagnazione. Nella sua opera Sloterdijk si insiste molto sull'illuminismo e sul suo nesso con il cinismo. In sostanza, dice Sloterdijk, nella sua opera, nel tentativo di contribuire a risollevare le sorti dell'umanità e a farla risorgere dallo stato di debolezza in cui attualmente versa, Sloterdijk propone una sorta di gaia scienza, contrapposta alla scienza triste dell'illuminismo. La scienza dell'illuminismo è triste, da che è responsabile della distruzione di tutto ciò in cui gli uomini credevano e su cui avevano fondato le proprie esistenze. In critica della ragioncinica, Sloterdijk procede dunque a una critica spietata nei confronti delle religioni, delle illusioni metafisiche e delle sovrastrutture idealistiche. In relazione alla religione, ad esempio, Sloterdijk dice che tutte le religioni sono costruite sul terrore e sulla paura. Tutti gli esseri umani si avvertono come impotenti di fronte alla forza della natura e per questa cagione cercano rifugio in entità che ritengono più forti e più potenti. A un certo punto tuttavia uomini ambiziosi, politici esperti e filosofi principiano a trarre vantaggio dall'ingenuità delle persone e per questo motivo inventano divinità fantastiche e crudeli, che non hanno altro scopo se non quello di far conservare ai potenti il controllo sugli esseri umani. Rispetto alla coscienza di sé e all'io, Sloterdijk dice che non si tratta altro che di una costruzione borghese. Infatti, nel momento in cui la borghesia ha detto io, è emerso limpidamente l'orgoglio del lavoro e della produttività, orgoglio centrato sulla consapevolezza tutta borghese di essere una classe sociale migliore della corrotta classe nobiliare e delle masse non istruite. Sloterdijk vede emergere storicamente un nuovo io politico anche nel movimento operaio. Questo io assume caratteristiche non molto differenti da quelle dell'io borghese e ha parlato per lungo tempo il medesimo linguaggio dell'io borghese. Anche per la classe operaia questo io è stato costruito sui grandi ideali della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, ma pure l'io della classe operaia, dice Sloterdijk, ha un'incontrastabile volontà di potere. Il messaggio che Sloterdijk lascia emergere è che ogni classe sociale sviluppa una morale perfettamente funzionale ai propri interessi. Ma nel momento in cui alcuni individui iniziano a compiere scelte morali non tanto perché utili quanto semmai perché più vicini al proprio modo di essere, essi principiano a manifestare atteggiamenti cinici. Mentre il cinismo antico si coniugava con la satira e con la risata, pensiamo a Diogene di Sinope, ed era quindi un atteggiamento estremamente vivo e vitale, l'odierno cinismo, dice Sloterdijk, porta alla tristezza, alla depressione e al pessimismo. In definitiva porta a quello che Sloterdijk appella cinismo e che ora ha assunto una notevole rilevanza nella nostra società. Ma che cos'è il cinismo per Sloterdijk? Con tale termine bisogna intendere una falsa coscienza illuminata, vale a dire una coscienza che ci porta a mettere in discussione i principi assoluti in cui non crediamo più, ma che in pari tempo non ci permette di individuare solide basi per l'azione e per la conduzione della quotidianità. Dunque il cinismo ci porta alla tristezza e alla depressione. Sloterdijk dice che il cinicismo è ora un problema comune, universalmente diffuso nel mondo occidentale industrializzato, e l'origine del suo sviluppo deve essere ravvisata nell'educazione che ci viene impartita a scuole e all'università. Istituzioni che, per Sloterdijk, sono responsabili di formare giovani intelligenti e preparati, ma completamente immotivati e senza prospettiva. Nella nostra formazione, infatti, noi entriamo in contatto con un'enorme varietà di paradigmi di vita differenti, molti dei quali sono fondati su precisi valori metafisici o religiosi. Dunque, dice Sloterdijk, l'educazione ci pone in una condizione schizofrenica, infatti ci consente di provare differenti stile di vita, nessuno dei quali tuttavia appare chiaramente giustificato, ed è per questa cagione che ognuno di noi finisce per compiere scelte non sostenute da convinzioni profonde. Il cinicismo si configura come un fenomeno di massa, diffuso in particolare all'interno delle classi sociali medie e medio-alte, e ciò perché esso, a giudizio di Sloterdijk, può svilupparsi solo tra coloro che godono di una posizione di autorità, come i religiosi, i filosofi o gli scienziati, in definitiva tutti quelli che fanno riferimento a un'ideologia astratta e a un sistema assoluto. Accanto alla nozione di cinicismo, accanto alla nozione di cinismo, Sloterdijk, dicevamo, introduce il concetto di chinicismo. Nella sua accessione classica era inteso fondamentalmente come impertinenza, come insolenza di fronte a ogni pretesa di autorità. Il chinicismo, infatti, si è manifestato attraverso comportamenti che ora non potrebbero essere socialmente ammessi, come il mettersi le dita nel naso o emettere flatulenze. La figura di Diogene il cinico, secondo Sloterdijk, dà il via a un processo di resistenza nei confronti dei discorsi manipolati e artefatti delle filosofie ufficiali. Diogene, in definitiva, principia ad avere esperienza non solo della delusione nei confronti delle astrazioni idealistiche, ma anche dell'inconsistenza dell'atteggiamento morale e mentale limitato alla satira. Per questo Diogene reagisce assumendo atteggiamenti sfacciatamente maleducati, di quella maleducazione colorata che contraddistingue appunto il chinicismo. Diogene vive nella botte, si masturba in pubblico, rigetta la proprietà privata, risponde in maniera insolente ad Alessandro Magno. Il cinico classico è in qualche modo colui il quale non si cura di nulla, non ha paura di nulla. Il chinicismo, in definitiva, secondo Sloterdijk, non è altro che una replica all'idealismo egemonico, replica che non si propone sotto forma di argomentazione contro, bensì come vita contro. Le dita nel naso e le flatulenze sono gesti che ciascuno di noi dovrebbe evitare di fare in pubblico e che sono consentiti unicamente in uno spazio privato. Ebbene, il cinico rovescia questa prospettiva e vive in maniera impertinente per rovesciare le concezioni egemoniche. Vitalità, affermazione della vita, vivere pieno sono concetti collegati al chinicismo come tipicamente riferibili a uno stile di vita che usa il corpo e non solo la parola, che usa il proprio vivere e non solo il proprio pensare. Per questo Diogene venne definito un Socrate impazzito. In conclusione, per delineare in cosa consista il chinicismo, possiamo dire che, analogamente al cinismo, è una posizione realista e di rifiuto dell'idealismo, ma diversamente dal cinismo, che rende l'essere umano triste e depresso, il cinicismo rende l'uomo felice e allegro. È in qualche modo un modo di vivere che rovescia lo stile dominante e che prende di mira l'ordine esistente. Un altro testo importante di Sloterdijk è quello in più volumi intitolato Sfere, in tedesco Sphären. È un tentativo di elaborare una visione generale della storia umana e della condizione moderna. Le sfere, le bolle, i globi sono contenitori attraverso i quali l'uomo pensa a se stesso nel mondo, alla ricerca di un involucro protettivo che lo immunizzi dai pericoli che provengono dall'esterno. Dal ventre materno allo stato sociale, l'uomo infatti sempre mosso dalla ricerca di sicurezza. L'opera Sfere è stata concepita come una trilogia. Il primo volume ha come sottotitolo bolle e tratta della teoria dell'intimità. Il secondo volume ha come sottotitolo globi e affronta il tema della metafisica dal punto di vista della filosofia europea classica. Il terzo volume ha come sottotitolo schiuma e descrive un mondo in cui si sono esaurite le possibilità di interpretare il tutto a partire dall'intimità. Sloterdijk opera una presa di distanza dalla filosofia della contestazione ancora al centro della critica della ragioncinica per elaborare una teoria di tipo storico e antropologico. In Sfere emerge il tentativo di procedere da una teoria dello spazio costruita a partire da basi psicoanalitiche a una concezione generale del mondo e della storia umana. In Sfere Sloterdijk prova a dimostrare che gli uomini sono esseri che derivano dall'interno, nel senso che si costituiscono all'interno della madre approfittando della protezione biologica che il corpo materno sa offrire. La struttura stessa della memoria umana mostra che noi rimaniamo profondamente connessi a quest'idea della madre e pretendiamo che anche al di fuori di essa ci venga garantito lo stesso benessere privato. Secondo Sloterdijk il mondo esterno è un mondo in cui l'assoluta esteriorità e l'estraneità hanno preso il sopravvento sulla familiarità e sulla vicinanza. Nell'era post-metafisica gli uomini non possono più costruire nulla a partire dalla loro esigenza di intimità e debbono fare i conti col fatto che ovunque siano e si trovino vengono incontro all'estraneo. A differenza di quel che riteneva Hegel, oggi, secondo Sloterdijk, non vi è alcuna strada sicura che ci riporti a casa da questa estraneità. Un altro testo importante di Sloterdijk che deve essere letto in questo contesto è Breve storia della globalizzazione. A giudizio di Sloterdijk l'intera storia dell'Occidente può essere vista come una lunga sequenza di ondate di globalizzazione. Ciò che ora viene mitizzato dietro il concetto di globalizzazione come se si trattasse di una novità non è altro che una tardiva interpretazione di avventi molto più ampi. A questo riguardo Sloterdijk parla di metafisica della globalizzazione. Già nel De Monarchia di Dante si facendo un'umanità globalizzata, dice Sloterdijk, a un genere umano agitato verso il mondo. E anche nel giro del mondo in 80 giorni di Verne si può concepire in qualche modo uno spazio globalizzato. Nel momento in cui la Terra ha svelato la sua sfericità, dice Sloterdijk, essa ha cessato di essere bella e perfetta, ma è sicuramente divenuta più interessante. Ed è per questa cagione che nell'età moderna non sono più i metafisici ma i geografi e i navigatori, quelli che forniscono una corretta immagine del mondo. Il mercato globale ha avuto origine proprio con le scoperte geografiche. Infatti il denaro ha principiato a girare intorno alla Terra e l'allargarsi dell'orizzonte degli uomini ha messo in qualche modo a profitto questo spazio nuovo, moderno, globalizzato. In questo panorama di spaesamento e di crescente sfruttamento l'uomo si sente disorientato per la perdita di contatto con un mondo che gli appare ora completamente diverso da quello che gli è stato tramandato. In qualche modo l'uomo perde la bussola, perde l'orientamento. La contingenza e l'incertezza, dopo questa mutazione antropologica, divengono i tratti più evidenti della condizione umana. Molti altri testi di Sloterdick meritano di essere menzionati, anche alcuni di occasione come un testo contro le tasse, la mano che prende, la mano che dà, anche il confronto con Heidegger, non siamo ancora stati salvati, e poi molti altri testi originali che rivelano una tendenza filosofica molto originale. Ad esempio, devi cambiare la tua vita, un tentativo in qualche modo di rigettare ogni teoria rivoluzionaria e di proporre un adattamento all'ordine del mondo, mutando la nostra vita individuale.